un grande saluto dal vostro chile preferito oggi a nuovo video di fornit con ludo pepe pure io video precedenti sarebbe bellissimo ah va bene vieni entra 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 che bello però ci sono i danni da caduta no vieni da me seguimi tu odi danni da caduta per caso perché puoi pure buttarmi giù con l'impulso però vieni qua sediti su di me dietro di me ahia ho fatto un po di danno guarda guarda che trucco invece di fa tutto il parkour no attenzione no perché su questo devo lavorare mi ha mandato un messaggio su una piccilla voglio vedere di che caso si tratta vai vai guarda intanto mi tolgo dagli amici no no non ti toglie fidati tutti sti qua quelli che quelli amici fasulli quegli amici fasulli dicono sempre ti tolgo dagli amici nemmeno nemmeno salta no perché no volevo morire prima in che senso giocare aspetta ok sei pronto avviamo è meglio non barare vero non barare infatti non mi fa scendere ok ma non puoi lasciarmi dai vi prego non cascare giù non cascare giù non cascare giù che bello mi sto divertendo tantissimo no no ti consiglio di bloccarlo se no sti qua impazziscono ma cosa vieni qua bro c'hai le armi per caso ma vieni qua bro lascialo stare è un pirra pure il mavigliolento l'ho fatto ho solo abbandonato e lui non c'aveva niente da fare e chi se ne frega se si sente guarda come sta scendendo ti posso impulsare perché no no va bene va bene aspetta fermo non tornare e ritorna da me che fai chiamolo non entrare come un pirra dobbiamo uscire andare sull'altra isola 2 però non mi fai l'isola 2 ma io ho 2 x ritorno come primo non 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 no ci stanno le pistole facili ok vai sei pronto bro siediti dietro di me se vuoi non ti va bene se ti faccio cadere con l'impulso tante volte o no le pistole fossili sono utilissime in questo caso vieni bro no 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 vediamo guarda non funziona vai 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 prego no oh non sono morto vai vai ma vieni qua vieni qua via No ma tu Samro, ho beccato la tua testa e mi hai fatto cascare giù, invece che cadere sulla tua struttura, no ora salto sopra di te io, arrivo. Vieni qua, vieni qua, 3, vieni qua, 3, vieni qua, 3, 2, 3, 2, 1, sono partito malissimo bro. Non puoi, però io voglio provare se faccio, ma che figata, bro non sai quanto è figo, no guarda è tipo, quando sto sbagliando, l'atterraggio, tipo sto sbagliando, faccio tipo bam, 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 bam. Vieni qua, vieni qua, aspetta dove stai? Sì sì, c'è pure lo scudo è vero. Ma non hai detto 1 ed è partito, invece sei partito al 2. Fammi di carica, ti prego. No, sono sopravvissuto. non aprile, anche se dicendo. non 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 a spazio america è stato bellissimo vabbè c'ho sto segno un'altra kid così a caso non so perché me l'ha data così a a carly se si muo a a a a questo è un lavoro di lui chi ha fatto una casa? non è facile come ha fatto 60 anni? devo ricaricare? no! No Mi fai letto No Dai bro io l'ho mancato tutte le volte No mi rigenero pure io No sono tornato al centro Come uno sceno Arrivo bro Però ci siamo divertiti un po' Un po' tanto Sì ora sai che facciamo Tipo facciamo la roba sugli spoon Invece di andare giù va bene Ovviato Dobbiamo solo quella No guarda guarda Allora tre La baciamo qua Si Voi Polly No guarda guarda Sì Che Kane Sì L Hannesi 학 non muori tanto lo sapevo ma cosa?! ma come pari a morire questa mi serve io in pietra costruisco perchè sono no no devo ricaricare ok lasciami ricaricare in pace sennò io muoio ma come fai? si è meglio io volevo rigenerarmi prima sono tornato al centro ma va bene un errore bello grosso ho sette e tutto ho sette e tutto dai bro non puoi solo quello nooo non ho sparato ci siamo andati in vecina vicenda ci siamo andati in vecchia ci siamo andati in vecchia ti prego che bucio ho avuto ti prego non lo fare nooo 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 quante vita hai? tanta torta 100 cosa? sai quando me uccidi hai 8 dic è vero dovaj dove ricaricare?! vuolevo no dai bro non mi chissate dai no no pro perchè mi hai sparato vevo ricarica tutte le anni mi stavo rigenerando un colpo oh ma cosa fai aia sono morto o no ho 30 di vita meglio fare così io sto perso quanta oh no ti prego no perché di nuovo è caduto si ho preso la jump no è cattivo ricarica tutto via via è cattivo però vieni qua non michellare non michellare ti prego vieni qua dentro voglio vedere chi è più forte abbraccio di ferro allora sai come si fa allora tipo aspetta ho sbagliato una cosa vieni vieni aia vieni vieni fammi vedere tutte le armi che hai intanto ce le abbiamo uguali tutte da ricaricare pezzo di ero volevo le armi già ricaricate questa è ricaricata guarda che sono tutte ricaricate io no tu puoi avere pure una fortuna di ecciottarmi ma va bene oppure ho tutto ricaricato oh ero cascato nella jump dritto nella jump ero andato poi ho dato pure quella pistolina aia ma se la smetti bro ah vuoi vedere chi ci comanda io no non trovavo l'arma di caricata io guarda bro stai fermo forse io provo a killarti così senza toccare terra forse non ce l'ho perché ho pensato che si distrugge in un colpo poi ho detto vabbè due colpi tranquillo non scendere ma perché ma perché spammi proprio devi spawnare davanti a me ma se la smetti un eccio no dai non aprire non aprire non aprire non aprire non aprire non aprire ma sei un pirla un po' no 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 oh 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 va bene va bene aspetta chi muore se vinco io ne facciamo un'altra se muoio muori tu no io sono morto oh ma cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai io mi nascondo tu non mi troverai mai ma come hai fatto a trovare ah ecco no un'arma ricaricata tu potresti essere dappertutto io devo sopravvivere da te va bene va bene ok metto caccia allora io mi butto basta io vorrei fare quella che non si ricarica voglio vedere come si fa no tipo c'era una modalità che si ricaricava no perchè torno al cintrum aia perchè devo sbattere per terra metti caccia metti caccia metto una di pistola focile e il caccia e tutti gli altri caccia in che senso una pistola focile e tutti gli altri caccia infatti sei pronto aspetta voglio vedere una cosa alla mia isola se la smetti di guardarmi va bene allora vabbè ci stiamo divertendo tantissimo questa è mia una pistola focile ma non ho preso la pistola focile un minuto se non la smetti di muoverti come un pesce ah non mi fai niente buona oh oh 325 ho visto che non scherzi con i cecchini perché devo ricaricare tutto io no voglio vedere bro se ti becco vieni stai così no 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 ti prego però io non ti chillo non ti chillo non ti chillo ma cosa allora allora non ti puoi spurti non ti puoi spurti non ti puoi spurti va bene va bene va bene oh oh un eccio no oh un eccio un eccio un eccio io ti tolgo 90 e testa tu puoi spurti 90 ti ho fatto noo ti prego ti ho fatto io mi sono salvato tu no mi spiace ma devi avere esperienza Su sto gioco schifoso Dai scherzo È il gioco più bello del mondo Anche se c'è pure GTA 5 Ma vabbè questo è il mio gioco preferito Sali Sali I'm coming home Arrivo Quanto su devo andare? Non mi sto cadendo Ma cosa fai bro? Ma cosa? A questo punto io dovrei essere morto Ma non so come sono sopravvissuta Però basta Con queste scale Ok Ok Vengo Devo fare solamente un paio di migliaia di scale Devo fare solo Mi stai aspettando su? No Sì Volevo tantissimo Piccola piccola Meglio piccolare Certe volte Oh Ho detto Se non muori Io ti piccolo No facciamo solo con Aspetta Cerchiamo Non mi sparare Bisogna fare Pistole Dai solo pistole Non mi sparare Bravo Ma che cavolo fai Ma che cavolo fai Ma che cavolo fai Zampa Babbiamo Balla 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 Ti sei abbassato tu Va bene Pistole blu E cos'è la pistola blu Doppio pistole o Pistole normale No pistole normale Tipo Guarda Tutto è come non morire Mentre i caschi Non l'aprire Vabbè Non l'ho poi nemmeno Allora Ci metto Due di pistole Stavolta E Tutte le altre Pistole Normali La silenziata Ti va bene? Sì Ok Eccomi Se sto caricamento va No no Ti tocca aprire due Non mi sparare Un colpo e tu sei volato via Sì ma non puoi sparare adesso Se dice miglia Dai Va bene Scusa Ti lascio pure un'arma Mi posso prendere la pistola 3 2 1 Vai Come fai? Basta mirare sempre in testa Ti prego Ti prego Aspetta Non mi sparare Non mi sparare Devo aprire io Ora credo che Non sei qui morto Ma come fai ad avere Così tanto scudo Scusa Meglio non scundersi Scusa ma In questo momento Cosa dovresti fare? Non ti doveri tre No Tipo Guarda Spari con le pistole Ti sembra che Il nemico Vabbè ovvio Ho fatto pure Il danno da caduta Eppure tu 56 Ma hai fatto Uuuu Era immortale Era immortale No Ok Ma sei immortale Io mi suicido Ciao Ma davvero Ci hai creduto Che mi suicido Ma È solo perché Ho 4 ore di vita È ovvio Che devo Te ne vai Te ne vai No Va bene Non sono buono Ad usare La sua pistoletta No Pure io Ci vado No Vai mi suicido Ok Perché sei chiuso Da me Vabbè Ti sei chiuso Proprio dove c'ero io Sono spammato Spawnato Ma sei Ma cosa vuoi fare Ma cosa Ma cosa Ma cosa Ma cosa Ma scusa Ma scusa Ma come Ma come Ma come Ma come Ma come Io sto un po' avanti con la tua Va bene Vediamo aspettami ma le fa così tutte alla volte ma perché devi rompere proprio da me è pure impossibile spammare con la pistola se mi distrugge qualcosa da sotto mi arrabbi allora va bene solo per darti un consiglio che distruggimi qualcosa da sotto no distrutto niente no niente è distrutto suca no ti prego non vieni qua non vieni qua psych ma perché no non c'è quella pistola pure sulle jump sei andato schifoso quanto vuoi ma cosa perché uso quest'arma no dove ricaricare dove ricaricare dove ricaricare dove ricaricare st'arma dello schifo pure io devo andare ma no non c'è un'ultima kill fammi farla io te la faccio non fin da me vediamo aspetta facciola nel pavimento questo quanto volevi prendermi ti prego non vieni qua ciao bro un grande saluto da un nessuno vabbè vi lasciate i miei pollici su iscrivetevi al canale e vi saluto di nuovo